ciao ragazzi e ciao ragazze nuovo video dei gratte vinci allora alla fine ho preso cuccioli d'oro però questa volta ho preso il cane perché ho scoperto che c'era il cane e il gatto per cui sono diversi e poi mamma non mama per cui ho voluto prendere questi due ho speso 6 euro per cui questa volta alzo un po il prezzo e ne prendo due però da 3 euro e allora prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e se ne volete vedere altri seguirmi su instagram che lì sapete infatti adesso ho deciso di mettere i gratte vinci così vi do qualche spoiler di quale gratte vinci poi gratterò nei video per cui come ho fatto l'altra volta che l'ho messo su instagram e detto questo volevo precisare questa cosa qua allora io ho comprato cuccioli d'oro l'altro video che avevo fatto dove ho grattato questo gratte vinci ci sono state delle polemiche praticamente ho ricevuto quattro commenti o tre commenti dove le persone avevano da dire come c'è in poche parole che io ho sbagliato a giocare e a grattare diciamo questo questo gratte vinci perché invece di grattare tutto dove dovevano praticamente c'erano anche dei simboli io i simboli non l'ho grattati allora c'è saltato un putiferio dicendomi sotto in questi commenti che non si gratta così non si gioca così questo gratte vinci dovevi grattare pure i simboli perché dovevi grattare tutto gratte vinci eccetera no allora voglio precisare questo io non ho grattato tutti questi gratte vinci cioè non ho grattato in tutta diciamo la casella dove c'erano i simboli perché sapevo che il biglietto era perdente per cui ho pensato di non farvele vedere no perché io ho grattato tutto ma nel video giustamente non l'ho messa quella clip dove ho grattato tutti i simboli e giustamente voi avete visto solo le frecce e se avevo vinto o avevo perso per cui i simboli non avevo mostrati questo è quello che volevo precisare perché ho ricevuto c'è questi commenti come cioè non lo so io un conto se era un consiglio cioè mi scrivete guardati da un consiglio ti sei dimenticata di grattare che ne so i simboli oppure anche va che hai sbagliato dove grattare anche i simboli il gratta vinci si gioca così 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 ok invece no c'è ho ricevuto tutto tutt'altra cosa dei commenti con scritto e ma non si gratta così prima di grattare guarda come si gioca eccetera c'è ma ma dove siamo arrivati solo per un gratte vinci che che poi non ho sbagliato perché alla fine sono io che non ho voluto mettere la clip dove grattavo e facevo vedere i simboli perché è normale se io so che questo gratte vinci perdente inutile che sto lì a grattare i simboli cioè poi se volete vedere che io gratto i simboli infatti adesso l'ho ricomprato questa volta gratto i simboli vi faccio vedere se vincono vinco dato che volete vedere anche i simboli vi faccio vedere ma io ripeto non ho voluto far vedere i simboli che uscivano perché tanto questo gratte vinci che era perdente cioè io dico questo ma in realtà l'altro video sto parlando questo è quello che volevo dirvi per cui scusate ma c'è poi chi guarda questi video che mi ascolta anche invece di andare avanti col video e vedere solo se io vinco perdo sinceramente è inutile guardare questo video se poi cioè andate avanti col video lo guardate solo per due minuti se io vinco un qualcosa di questo gratte vinci o l'altro non ha senso guardate il video fino alla fine da da quando io inizio a a parlare fino a quando finisce il video perché così capito meglio non che vedete un video di due minuti quando il video durerà dieci minuti un conto se questo video dura 15 20 30 minuti posso capire ma un video che dura dieci minuti non mi potete vedere un video di due minuti solo per vedere se io vinco o no a questi gratte vinci perché sennò non ha senso capito io sono poi sono sto qua come una scema a fare un video che ci metto tanto per cosa per farlo vedere solo c'è perché così almeno vedete due minuti non è che sembra tanto diciamo bello anche perché io guardo i video dall'inizio alla fine non che prendo apro il video e poi guardo alla fine tutto qua questo vuole anche precisare questa cosa qui detto questo che ho parlato fin troppo adesso vediamo questi due gratti vinci vediamo davvero se vinciamo qualcosa e niente tanto ho già spiegato negli altri video come si gioca sia uno che nell'altro per cui detto questo iniziamo spero che qualcuno mi ha ascoltato e non è andato avanti a vedere se vinco o perdo negli altri vinci detto questo iniziamo vediamo iniziamo da cuccioli d'oro vediamo se questa volta vinciamo qualcosa allora partenza vorrei precisare che se per caso voi vedete questo che già grattato praticamente ero curiosa di sapere se i gratte vinci erano vincenti o perdenti per cui io so se i gratte vinci sono perdenti o vincenti perché ero curiosa e allora con il codice diciamo che c'è qua ho visto se il gratte vinci è perdente o vincente però non vi dico se è vincente o perdente perché voglio che vedete questo video iniziamo partenza iniziamo da qua allora qua c'è scritto destra spero che vedete bene se no allargo vuol dire che dobbiamo andare di qua poi destra di nuovo qua dice di andare sotto dice di andare a sinistra dice ancora a sinistra ok e qui non abbiamo vinto il premio poi dato che volete che io gratto tutto iniziamo da qua qua troviamo le forbici il collare il pettine la cuccia la casa la coccarda lattina il fiore questa qua dovrebbe essere la gabbietta il cuscino la fontana l'albero l'albero il cuore e il sapone questi sono i simboli allora il simbolo che dobbiamo trovare e se l'abbiamo trovato è il cibo il cibo ovviamente non l'abbiamo trovato anche perché io c'è qui c'è scritto mille euro per cui è impossibile che devi avere un culo per vincere quei soldi lì io gratto anche i premi così almeno sappiamo che cosa c'era questi sono i premi mille duecento cinque euro e venticinque diciamo che i premi erano altini questo è il grattavinci perdente per cui controllate anche voi ma è perdente così ho grattato tutto passiamo all'altro allora iniziamo da qui scarpa colomba qui abbiamo un cuore un altro cuore siamo già due una farfalla questo qui un arcobaleno si vede? sì un altro cuore siamo a tre un pantalone poi c'è la roulotte un altro cuore l'abbiamo la televisione un altro cuore poi abbiamo un altro cuore e infine le cuffie ok per cui abbiamo fatto due quattro cinque sei sei cuori abbiamo trovato vediamo il bonus se c'è il simbolo allora qui abbiamo la scarpa qui abbiamo la scarpa per cui la scarpa l'abbiamo trovata e abbiamo vinto cinque euro in poche parole cinque euro sia con i cuori che con il simbolo e questo è vincente adesso lo gratto bene ok meno male ogni tanto ci sta che vinco cinque euro cinque euro meglio cioè sono buoni a confronto di non avere niente questo è quello vincente ok ho grattato un po' di più cioè veloce perché credo che questo video è durato un po' tanto a confronto degli altri comunque questo è quello perdente però è carino come gratta vinci per cui lo ricomprerei e invece mamma non mamma abbiamo vinto e ho vinto dieci euro per la prima volta ho vinto una cifra un po' altina che non mi è mai successo di vincere dieci euro prendendo un gratto e vinci da tre per cui direi che il prezzo non è male perché dieci euro è buono per cui ovviamente mi tengo i dieci euro non vado a comprare un altro gratto e vinci io sempre così cioè se io vinco una cifra più di tre calcolate cinque euro dieci euro mi tengo i soldi e non vado a spendere altri perché cioè non capita mai di vincere dieci euro per cui preferirei prendere dieci euro e non spenderli ancora per i gratte vinci e niente cioè sono rimasta perché dieci euro non me l'aspettavo per la prima volta da quando registro questi video ho vinto dieci euro vabbè direi che non è male come cifra questo video si conclude qua finisce qui spero che vi è piaciuto il video e spero che avete capito di quello che ho detto prima detto questo vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto un commentino qua sotto un like e vi aspetto anche su il mio instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao